Pijamax! Senti il ninja più potente del mondo. È sparito! Guardate! Delle corde! Il ninja della notte! Vuole trovare la montagna! E anche l'anello! Dobbiamo fermarlo! Super Pijamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città. È un coraggioso terzetto di eroi. È pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata. Amaya diventa! Sopetta! Sì! Greg diventa! Getto! Sì! Connor diventa! Gatto Boy! Il ninja non deve arrivare alla montagna misteriosa. Trova le sue tracce, Pijorobot! Ecco! Mini ninja dietro al museo! Ha detto che vorrebbe tanto venire con noi. Tradurrà la pergamena. Ehi! Non è una cattiva idea! Pijorobot, vieni con noi! Tutti ai Pijorover! Promettimi di non metterti nei guali. Dunque, in base all'antica pergamena, la montagna dovrebbe apparire se apro il portale. Giusto? E il portale dovrebbe essere qui. Giusto? Se sei tanto intelligente, aprilo tu! Vedete anche voi quello che vedo io! Forte! Forte! Pensavate di arrivare alla montagna misteriosa? Ve lo sognate! Solo il ninja della notte raggiungerà l'anello della ninja abilità! Ci vediamo! Mi dispiace per voi! Dobbiamo entrare e prendere l'anello per primi! Se lo indossa lui, diventerà invincibile! Entrare? Ma come? Non mi intendo di portali magici! Ma questo mi sembra chiuso! Sì! Ottimo lavoro, Pidge Robot! Sei stato utile! Andiamo! Bardo! Udito gatto! Sei sicuro che sia da questa parte? Buh-Buh! Seguiamoli! Aspetta! Se l'anello è sulla cima, basta volare lassù e prenderlo! Facilissimo! Piano B? Quello era il piano B! Torniamo al piano A! Seguiamo quei ninja! Sembra che il fango sia mischiato con... Il ninja della notte si allontana! Dobbiamo lasciare qui i rover! Andiamo! Vista Guffetta! Vedo la fine della foresta un po' più avanti! Una scorciatoia? Se ne sei tanto sicuro, perché non vai avanti tu? Che potere riceverà il ninja della notte se arriverà per primo all'anello? State certi che ci arriverà per primo! E quando lo prenderò, non credo che voi Pidgeapesti potrete ancora competere con me! Nel frattempo, appiccicateli! Scusi adesso per Gekko! C'è un altro modo per arrivare? Questo posto sarà pieno di passaggi segreti! Tu resta qui e mandali nella direzione sbagliata! Cosa? Non guardarmi così! Dopo torneremo a prenderti! Probabilmente! Dove sono andati? Dobbiamo andare lassù! Gattoboy, aspetta! Il coraggioso Gattoboy sta scalando la vetta! L'anello della ninja abilità sarà suo! Ho sentito che hai detto che vuoi prendere l'anello, Gattoboy! Beh, rivedi i tuoi piani! È tutto appiccicoso! Gattoboy, attento! Grazie! Non c'è di che! Sono appiccicata! Resistete! Sto arrivando! Pidge Robot, vieni con me! Noi arriviamo subito! Apriti! Sesamo! Bene! Renditi utile adesso! Guarda! Incredibile! L'anello sarà dietro quelle porte! Non lasceremo che lui arrivi per primo! Andiamo! Levatevi di mezzo! Qui serve un colpo d'ariete ninja! Hai perso, ninja della notte! Ho rubato la pergamena in modo leale! E se il prezioso anello della ninja abilità è qui dentro, è mio! Ninja! In azione! Incredibile! Sì, incredibile! Se sei un maestro ninja, non se sei un eroe in pigiama! Se qualcuno deve prendere l'anello magico, quelli siamo noi! È fatto per essere indossato da un eroe! L'anello è mio! Super gatto volso! Cosa? L'anello! Deve essere lì dentro! Ehi! L'ho visto prima io! Non è un buon segno! Ah! Tipo di drago appiccicose! Aiutatemi! Aiuto! Che cosa succede? E dov'è Gatto Boy? Dobbiamo entrare anche noi! Aiuto! Arrivo! Ma manca davvero poco! Ti ho preso! Oh, bene! E adesso? Possiamo aspettare! Gatto Boy! Sono felice di vedervi, ragazzi! Mi aiutate? Muscoli da supergetto! Andiamo! C'era un modo più semplice per entrare! Ah! Perché non me l'hai detto? Pijaro Tame ti ha dato una mano! Cosa? Il mio anello! La prossima volta! Aspetta! Non c'è da qui! Via, via! Via, via! Non c'è da qui! Ciao, Settò! Ti tengo un peggio robot! Non pensareci neanche tu! Vieni con noi! Raggi felini! Mi avrete anche impedito di prendere l'anello della ninjaabilità questa volta! Ma non finisce qui, superpigia pesti! Andiamo, mini ninja! È stato bellissimo! E dicevano che era solo una leggenda! Chissà che altro ci sarà lassù! Poteri segreti! Segreti potenti! Beh, se riguarda il ninja della notte sono sicura che ci torneremo presto! Superpigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Nuovi superpoteri! Fizz, Bleach, Bloop! Sono il pigiarobot, Flip! Io proprio non lo capisco! Secondo me dice che io sei simpatico! Anche a me è molto simpatico! È il nuovo superpigiamino! È bello che sia uno dei nostri! Ma che cosa farà esattamente? Beh, è super tecnologico, no? E poi si muove e gira su se stesso proprio come un robot! Bleach, Bloop! Oh! Che sono? Palle appiccicose! Il ninja della notte! È un pessimo segnale! Superpigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città! È un coraggioso terzetto di eroi! È pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Amaya diventa! Guffetta! Sì! Greg diventa! Giacomo! Sì! Connor diventa! Giatto boy! Ciao, Pijarobot! Bella mossa! Non puoi guidare la gattomobile! È un compito che tocca a me! Sta cercando altre foto nell'archivio fotografico, eh? Tranquillo, piccolo, non c'è problema! Non ti voglio! Per tutti i camaleonti! Hai trasformato il mio walkie-talkie in un videoproiettore! Ehm... Ma abbiamo già le nostre radio! Sì, e come? Passo e chiudo! Sì, comunque sei bravo! Continua così! Ehi, guardate! Il niggio della notte! Che stanno facendo? Andiamo a scoprirlo! Alla gattomobile! Ehm... Pijarobot? Avanti, prendiamo il gufaliante! Non riesco a trovarli! Pijarobot, segnalami la posizione! Non riesco a trovare! Oh? Andiamo a remonti! Ehm... 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 Vista gufetta! Ora atterriamo! Siete migliorati! Concentrazione, mini ninja! Ehi, basta così! Qualunque cosa sia! Qualunque cosa sia! È l'antica tecnica ninja delle dita! Stiamo aumentando i nostri poteri ninja! Possiamo farle evitare e rubare tutti i palazzi che ci piacciono! E a me piace proprio questo qui! Levi che cosa? Levitare, Gekko, cioè sollevare! Vuole sollevare il museo e portarlo via! Oh, Gekki Guizzanti! È proprio un bel guaio! Ah, ma no! È una sciocchezza! La vostra tecnica ninja delle dita non serve a nulla contro i poteri dei Pijamasks! Super gatto a velocità! Super Pijamini! Super presa rettile! Ma che succede? Pijarobot! Agile come una pazzetta! Pantara è più veloce di una... Lumaca? Gatto Boy Gekko, che ci succede? Fantastico! I Pijamini senza poteri! Il che significa che posso fare e prendere tutto ciò che voglio! Bisogna tornare al quartier generale! Seguiteli! Mentre voi prendete tutti gli edifici! Voglio tutta la città! Pijarobot mi ha chiamata! Ha fatto qualcosa con l'archivio delle foto! C'era una specie di enorme cristallo! Cristallo? Mai visto niente del genere! Forse è per questo che abbiamo perso i poteri! Per qualcosa che... Ha combinato Pijarobot! Forse non è ancora pronto per diventare un super pigiamino! Ma che cosa state aspettando? Pijarobot! 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 Non possiamo entrare! Non abbiamo i poteri! Le porte non si aprono! Pijarobot! Aspetta, Gattoboy! Ha provato a chiamarmi, ricordi? Qualsiasi cosa abbia combinato era soltanto per aiutarci! Ne sei convinta? Ha sempre cercato di aiutare! Voleva guidare la gattomobile e... Ha modificato il mio wookie-tookie per migliorarlo! Oh, Jackie Guizzanti è in difficoltà! Bisogna dargli una mano! Voleva soltanto partecipare alla nostra missione! Povero Pijarobot! Lui non ha colpa! Sì, anche a noi capita di fare degli errori! È aperta! Presto! Pijarobot! Pijarobot! Ehi! La batteria è quasi del tutto scarica! Ha consumato tutta l'energia per aprire la porta! Ha sacrificato se stesso per salvarci! Si è comportato davvero Pijamask! Pijarobot! Per tutti i buffi pelini! Che cos'è? Il cristallo enorme che avevo visto prima! Ok, non ti preoccupare! Ci penso io! Attento! Credo che il cristallo abbia a che fare con i nostri poteri! Io non ce la faccio! Proviamoci insieme! Ce la faremo! Noi siamo ancora i Pijamasks! Tocchiamolo! Sta accadendo qualcosa! Sento un formicolio nelle braccia! Anche io, Gekko! Aumento la pressione e sento che è sempre più forte! Tenete duro! Gatto boy! Gekko! Zufetta! Ma cos'è questo cristallo? Non lo so, ma... Mi sento fortissimo! Anche io! Ehi! Pijarobot! Oggi hai superato te stesso! Non è per me! Super Pijamini! È il caso di andare a spiegare al Ninja della Notte chi è che comanda! Sì! Cosa? Ho dei super raggi felini! Yuhuu! What the? Sì! Scudi da Super Gekko! Sono invincibile! Piume da Super Gufetta! Che meraviglia! Ma che cosa ci succede? Quel cristallo ci ha dato nuovi poteri, Gekko! E sono straordinari! Ed è tutto merito di Pijarobot! Non illudetevi che sia finita qui, Pijamast! Sì! Pijarobot! Di notte salviamo la situazione!